La battaglia sui locali del complesso Fazzello utilizzati come spazi museali registra oggi la forte presa di posizione dei docenti del primo circolo didattico Giovanni XXIII che in un documento inviato al sindaco di Sciacca Francesca Valenti ne chiedono l'immediata restituzione. Una vicenda ricordano che va avanti dal 2016, da quando a seguito dell'alluvione che danneggiò il Museo del Mare di Contradamuciare i reperti vennero trasferiti al complesso monumentale del Fazzello con ingresso in via Licata e collocati in una saletta che la scuola utilizzava come deposito di materiale didattico. Doveva essere una soluzione provvisoria e invece la questione ha preso tutt'altra piega. Sempre al Fazzello vennero infatti trasferiti anche i cannoni per i quali la scuola, in pieno spirito collaborativo, mise a disposizione la sala teatro che da deposito è stata poi invece utilizzata come sala museale. Il punto è proprio questo, ossia l'utilizzo a scopi museali di locali scolastici che avrebbero dovuto essere adibiti solamente a deposito e per un breve lasso di tempo. Sono passati due anni dal novembre 2016 e anche i docenti del primo circolo didattico, dopo l'architetto Rino Segreto che ha curato la ristrutturazione dell'edificio, non ci stanno a subire ancora quella che ritengono sia una arbitraria appropriazione di locali altrui. Di più, nella lettera inviata al sindaco sostengono di non comprendere come sia possibile che si stia privilegiando un soggetto privato, l'associazione Amici Museo del Mare, al quale pure riconoscono apprezzabili finalità rispetto ad un soggetto pubblico qual è la scuola. E oltre all'esigenza di riappropriarsi dei locali scolastici, pongono la questione sotto l'aspetto della sicurezza dei piccoli alunni. Il fazello, scrivono i docenti, è diventato un museo aperto al pubblico, con tanti turisti che giornalmente si aggirano tra gli spazi che la scuola è ormai costretta a condividere con il museo. L'atrio dell'edificio e il centro di raccolta degli alunni in caso di emergenza aggiungono e non è concepibile che in caso di evacuazione i bambini della scuola dell'infanzia e scuola primaria possano trovarsi in mezzo ai visitatori del museo. Docenti che sostengono dunque di non essere più nelle condizioni di garantire la sicurezza dei piccoli alunni e questo evidenziano è inaccettabile. Da qui la richiesta al sindaco di risolvere una volta e per sempre quella che definiscono un'incresciosa situazione, una convivenza non più tollerabile tra scuola e museo che ha anche privato i bambini degli spazi dove svolgere attività fisico, dove andare a recitare. Spazi della scuola e di nessun altro ricordano i docenti, ristrutturati grazie anche a fondi europei appositamente destinati.